Sanità, infrastrutture e lavoro al centro del Consiglio regionale, concessioni balneari verso le gare perplessi, l'assessore Aguzzi e i titolari degli stabilimenti. Ciò di Fiorello all'Università di Urbino, per lui sigillo d'Ateneo e Lazio Magistralis, si parietto con la mamma del noto presentatore, applaudito da mille persone. Novantenne si sente sola e chiama la polizia, mi hanno picchiata in casa, ma non era vero il questore di Ancona a capo casa, la nostra missione è essere vicino ai fragili. Sambi, il presidente Massi sogna a sbaffo, il capitano della Re Canatese appena retrocesso in Serie D. Vigor Senigale ha confermato Clementi per la sesta stagione consecutiva sulla panchina rosso-blu. Ben ritrovati insieme ad una nuova edizione del nostro Tg Marche, come sempre a cura della redazione giornalistica di Vera TV. In apertura andiamo ad Ancona, dove si è attenuto oggi il Consiglio regionale Sanità, Infrastrutture e Lavoro al centro dell'Assise. Si tratta dell'unico Consiglio svolto nel pieno della campagna elettorale in vista delle amministrative delle europee dell'8 e 9 giugno. Per noi ci ha Ratte Odora Stefanelli. Un Consiglio regionale che inevitabilmente segue il ritmo serrato della campagna elettorale. Giorni cruciali questi in vista delle elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno. Intervenire su sanità, infrastrutture è il mantra ripetuto più volte anche dai leader nazionali arrivati nella nostra regione negli ultimi giorni. E anche il Presidente Francesco Acquaroli spiega come queste due tematiche debbano essere prioritarie per chiunque verrà eletto in Europa. In particolare, dice il Governatore, promuovere le eccellenze del territorio tenendo in considerazione la vocazione territoriale delle marche. Le risorse sono importanti, ma prima di averne aggiuntive che sono sempre utili, bisognerebbe mettere in condizione col quadro normativo le regioni e le aziende sanitarie regionali di poter operare anche ottimizzando quelle che sono presenti. E poi sicuramente è importante per i servizi comprendere fino in fondo che la competitività del territorio è una ricchezza. Se noi continuiamo con lo spopolamento, lo spopolamento di aree interne e con la minore competitività di quelle aree comporterà una desertificazione economica. E non solo una desertificazione economica, comporterà un degrado del territorio, lo vediamo anche sull'assetto idrogeologico, che comporterà necessariamente degli investimenti per mettere in sicurezza quel territorio. Quindi non solo noi non andremo ad avere più tributi e introi di fiscale dovuto alle attività economiche presenti, ma rischiamo di dover prendere risorse pubbliche per mettere in sicurezza il territorio. Elezioni sì, ma anche lavoro. A tal proposito, in Consiglio si è parlato dell'iniziativa a sostegno dell'assunzione di disoccupati da parte delle aziende. L'assessorato alle politiche del lavoro, in continuità con la programmazione europea, ha previsto l'attivazione di un bando da un milione di euro, che prevede l'erogazione di aiuti alle imprese per l'assunzione di soggetti disoccupati. Le linee di indirizzo dell'intervento, che sarà finanziato con risorse POC Marche 2014-2020, sono state approvate nel corso della seduta di giunta. A seguito della pubblicazione dell'avviso, in attuazione della delibera, verrà erogato un incentivo pari a 26.000 euro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e di 6.500 euro per assunzioni a tempo determinato. Ed ora parliamo delle concessioni balneari verso le gare entro l'anno. Sulla Bolkestein il Consiglio di Stato ribadisce l'obbligo ai comuni di indire i bandi, smettendo la tesi della non scarsità della risorsa portata avanti dal governo Perplessi, l'assessore regionale Aguzzi e gli imprenditori balneari. Vi ha sentiti per noi Luigi Miozzi. L'estate è salva, ma sarà con tutta probabilità l'ultima spiaggia per i balneari. Il Consiglio di Stato, con le ultime tre sentenze, ha riaffermato che le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti sono illegittime anche perché contrastanti con le direttive Bolkestein. È la sintesi della nuova giornata di fuoco sul fronte delle concessioni balneari, quella di lunedì caratterizzata da una duplice sentenza di Palazzo Spada. L'ennesima negativa per il settore è dal tavolo tecnico convocato dal governo per decidere il da farsi. Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito la necessità per i comuni di bandire immediatamente procedure di gare imparziali e trasparenti per l'assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023. In relazione all'avvio della stagione ormai alle porte, ha poi richiamato il contenuto dell'espressa disposizione di legge che consente, in caso di difficoltà nel completamento della gara, la sola proroga cosiddetta tecnica fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni già scadute per i comuni che abbiano deliberato di avviare o abbiano già avviato le gare per assegnare le concessioni. Ma se la scadenza si avvicina, i comuni marchigiani sembrano ancora in alto mare, anche perché le stesse regioni non hanno ancora ricevuto le linee guida precise dal governo Meloni, che ha visto bocciare la tesi della non scarsità della risorsa a seguito delle nuove marpature delle coste italiane. Perplesso, l'assessore regionale Aguzzi e gli stessi concessionari di spiaggia. Mettere a repentaglio questa stabilità, secondo me, è negativo. Però non è che posso decidere io questa cosa. Per quel che riguarda questa bocciatura del Consiglio di Stato che di fatto impone a questo punto le gare, ecco, io voglio almeno sperare che ci siano tutte le garanzie di tutela per chi da tanti anni opera sui nostri territori efficacemente. Al di là di questo, siamo a inizio stagione, voglio sperare che si possa almeno mantenere le attuali gestioni per tutta questa stagione turistica che è già in atto, stagione estiva, per poi magari con più calma approfondire la situazione passato il momento, diciamo così, del massimo apporto di turismo. Altre due sentenze del Consiglio di Stato pongono al 31 dicembre 2024 il termine ultimo come proroga tecnica per fare le gare delle concessioni balneari. Come vivete questo momento? Ma come le viviamo? Io parlo con i miei vicini, con i colleghi, anche quando andiamo alle rappresentazioni, insomma, alle riunioni. La viviamo come una barzelletta, perché io qui sto da pochissimi anni, però di famiglia abbiamo uno stabilimento balneare dall'86 e sono vent'anni che va avanti sta storia da Bolkestein, quindi la viviamo come, ripeto, una barzelletta, cioè non ci sentiamo protetti e rappresentati. Praticamente siamo tutti nel dubbio perché non si sa soprattutto come verranno fatte queste asse, dove già in Italia sono partite a Iesolo, a Lito Sabbiadoro, in Toscana, a Forza dei Marmi, quindi c'è un'incertezza totale su questa cosa. Ora la cronaca ci porta nel Fermano. Silvano Asuni, arrestato per omicidio stradale, si difende davanti al GIP. Non mi sono accorto dell'investimento a perdere la vita. Il suo amico, Giampiero Larivera, 54enne di pedaso, attesa l'autopsia. Intanto il sindaco Berdini annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Ha fornito la sua versione dei fatti davanti al GIP. Silvano Asuni, 54enne di Monterubiano, arrestato per omicidio e omissione di soccorso per aver investito il suo amico e coetaneo, Giampiero Larivera, di pedaso, e anche per il tentato omicidio di un giovane rimasto ferito. Asuni ha riferito al magistrato di non essersi accorto dell'investimento, pensando che l'amico fosse fuggito a piedi nel parapiglia, seguito alla colluttazione con un 24enne che era in compagnia di un'altra comitiva vicino a un bar di pedaso. La tragedia sarebbe dunque la conseguenza del tentativo di scappare dalla violenta aggressione, un agguato a colpi di pietre da parte di un gruppo di ragazzi italiani e marocchini culminato con il danneggiamento del parabrezza dell'auto di Silvano Asuni. Il PM Pazzagli aveva chiesto un aggravamento della misura cautelare con la detenzione in carcere, richiesta respinta dal GIP del Tribunale di Fermo che nell'udienza di convalida ha confermato i domiciliari sulla base di una nuova testimonianza. Il magistrato ha comunque confermato tutte le accuse a suo carico, omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni personali, omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi all'esame tossicologico. È fissata invece per la giornata di mercoledì l'autopsia sul corpo della vittima, ma già nel corso dell'ispezione cadaverica era stato rinvenuto un grosso taglio alla testa e non è escluso che possa essere stato causato da un corpo contundente. Non ci sono infatti immagini in cui si vede l'auto travolgere la Rivera, ma le telecamere di un'officina di via Garibaldi avrebbero ripreso l'investimento dell'altro giovane rimasto ferito. L'indagato è assistito dall'avvocatessa Isabella Capriglia, secondo la quale le cause del decesso di la Rivera sono tutte da accertare e il suo assistito potrebbe essere stato vittima di un'aggressione. Una ricostruzione opposta a quella fornita da altri testimoni, secondo cui la Rivera sarebbe stato investito proprio dal 54enne di Monterubiano. Intanto il sindaco di Pedaso Berdini proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali del suo concittadino che lavorava in un ristorante del posto. Continuiamo con la cronaca da Civita Nova Marche, un albanese senza fissa dimora con precedenti per violenza e danneggiamento. È stato arrestato ieri sera all'intervento è avvenuto al circolo sociale Evergreen, situato in via Vasco de Gama, dove l'uomo aveva aggredito una persona e stava causando disordini. L'equipaggio di una volante è arrivato subito sul posto, ma l'uomo ha reagito prendendo a calci e morsi gli agenti. Uno dei poliziotti ha riportato lessioni guaribili in dieci giorni. Il cittadino albanese è stato condotto in commissariato in attesa del giudizio per direttissima, previsto per lunedì. Ed ora cambiamo decisamente argomento perché l'Università di Urbino ha conferito il sigillo d'Ateneo al conduttore e showman Rosario Fiorello. Applausi e tanto entusiasmo per Fiorello da parte delle quasi mille persone che hanno assistito alla cerimonia di conferimento nell'Ateneo Urbinate. Al termine poi spazio ad un simpatico siparetto tra Fiorello e il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e un commento ai nostri microfoni di questa giornata dello stesso Fiorello. Vediamo il servizio di Thomas Delbianco. Applausi A Urbino è il giorno di Rosario Fiorello. L'Università intitolata Carlo Bo ha consegnato al conduttore e showman il sigillo d'Ateneo. Il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini ha conferito a Fiorello nel corso di una cerimonia davanti a 900 persone la preziosa medaglia. Poi il momento clou la lectio magistralis del noto conduttore intitolata La mia vita, la mia carriera lo stesso grande spettacolo. Applausi Mi piace proprio Fiorello, la persona lo seguiamo da quando faceva il karaoke nelle piazze tanti anni fa quindi è un bravissimo showmane. Signorale? A me guarda l'allegria ogni mattina adesso con Viverei Due è stupendo, mi è piaciuto tanto e quindi non vedo l'ora di rivederlo qui. Una sveglia no? Col buon umore. Sì, sì, veramente per tutta la giornata. È un grande intrattenitore è instancabile sempre lì sul pezzo quindi questo diciamo mi porta sempre a seguirlo. Oggi cercherai di parlargli di fare una foto? Vediamo, sì se ci riesco, sì. Diciamo che è fantastico anche quando lo vediamo a Sanremo è veramente proprio riesce a riempire la sala soltanto con la sua presenza parlando e basta quindi è fantastico. Mamma, la mamma! Era la prima cosa che ci faceva andare avanti la giornata con un umore veramente alto Anche lei la guarda? Sì, sì, sì anch'io l'ho guardato molto, molto interessante La sua originalità e imprevedibilità anche il genio che ha dentro che ogni volta è diverso Al termine della cerimonia Fiorello è stato protagonista di un simpatico siparietto con il sindaco di Urbino Maurizio Gambini Ah, è il sindaco vogliamo dire io Sono arrivato a tardi ma ne vogliamo levare stai salire Poi lo showman ha raccontato ai nostri microfoni l'emozione di questa giornata Sono stato molto forti stare con i ragazzi è sempre molto bello raccontare parte della tua vita serve anche a me stesso per ricordarmi chi sono dove sono da dove arrivo e che è bene sempre ricordarselo e rimanere con i piedi per terra Da una festa all'altra gioia e orgoglio per la Iuasa Batteri Pallavolo Grotta Zolina ricevuta in comune prima della festa per la promozione in Superlega e commozione anche per il conferimento della cittadinanza onoraria alla squadra Festa per la promozione in Superlega per la Iuasa Batteri Pallavolo Grotta Zolina ricevuta in comune nella sala consigliare dal sindaco Alberto Antoniozzi che ha conferito alla squadra la cittadinanza onoraria come riconoscimento per il prestigio che rappresenta per una città di poco più di 3.000 abitanti Nelle ultime settimane sono state settimane intense di tante conferenze stampa per la vittoria ma penso che questa chiusura di campionato e questa chiusura con la premiazione in comune penso sia un'emozione indescrivibile sono state dette parole bellissime e come capitano della squadra Iuasa Batteri posso solo ringraziare tutto il comune tutti i miei compagni squadra per questo stupendo traguardo un risultato storico a livello nazionale che dà ragione ad un intero territorio di un sogno coltivato per 50 anni oggi siamo qui a festeggiare quello che è un traguardo storico quello che è comunque stata una stagione che per certi versi è irripetibile indimenticabile però chiaramente come quando si alza il livello poi bisogna essere rapidi nel metabolizzare tutta quella che è stata l'euforia della vittoria e nel mettersi al lavoro per cercare di costruire quella che sarà la superliga del prossimo anno dopo la festa è già tempo di guardare al futuro partendo dal team e dalla nuova sede in cui la squadra giocherà la prossima stagione a Porto San Giorgio al Palasavelli il futuro è un futuro complicato difficile la superliga è veramente un'altra categoria stiamo lavorando per allestire un roster all'altezza della nuova della nuova Lega non è semplice arriviamo per ultimi tutte le squadre ormai sono fatte l'obiettivo è quello di provare un ennesimo miracolo nel cercare di restare nella massima serie I ringraziamenti per una stagione così bella oggi che è la serata della festa a chi vanno? Vanno innanzitutto ai ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario va alla società va all'intero territorio va al comune è una vittoria di tutti è una vittoria di gruppo i risultati del genere si raggiungono solo lavorando insieme perseguendo un obiettivo un obiettivo che era un sogno e che è diventato realtà E dopo il comune ad abbracciare la squadra alla sala John Lennon c'è stata tutta Grotta Zolina con i suoi tifosi per una serata all'insegna della gioia e del divertimento come in una festa di paese senza tempo È difficile trovare le parole per spiegare l'emozione poi se ci guardiamo intorno qui c'è veramente tanta gente è uno spettacolo mi ripeto ma avere tutta questa gente intorno ci fa accrescere il valore e ci fa rendere conto di quello che abbiamo fatto che sicuramente è un risultato non esagero ma storico È stato un fulmine a colpire la chiesa di Santa Maria della Pietà a Monte San Giusto che custodisce la pala d'altare di Lorenzo Lotto ad essere danneggiato fortunatamente è stato soltanto il campanile che ha perso la croce e parte dei mattoni ce ne parla Donatella Lappa Siamo a Monte San Giusto alle mie spalle il campanile della chiesa di Santa Maria della Pietà che ieri intorno alle 20 è stato colpito da un fulmine ed ha perso parzialmente la punta le pietre si sono riversate nel cortile retrostante all'ingresso della chiesa con grande spavento per tutti e soprattutto per il parroco Don Bruno col quale abbiamo cercato di parlare ma oggi non è disponibile dopo una notte insonne e tanta preoccupazione anche per la pala d'altare con la crocefissione di Lorenzo Lotto che è conservata nella chiesa tutta la zona è stata perimetrata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco ma ancora non è stata fatta la conta dei danni si aspettano i prossimi giorni per sapere che cosa sia realmente accaduto all'interno della chiesa la tempesta di fulmini che ieri sera si è abbattuta sul maceratese e sulla costa danneggiato il campanile della chiesa cinquecentesca la croce che si trovava sulla sommità del campanile si è distaccata finendo nel giardino di pertinenza della chiesa insieme ad alcuni mattoni mentre altri sono finiti in strada colpendo un'auto in sosta sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione il sindaco Andrea Gentili che quando il fulmine ha colpito il campanile si trovava ancora in comune a pochi passi dalla chiesa di santa maria della pietà in telusiano ora ad Ancona dove una novantenne che si sentiva sola ha chiamato la polizia fingendo di essere stata picchiata il servizio di Gloria Caioni in piena notte al quartiere Pinocchio di Ancona arriva una volante della polizia gli agenti sono stati chiamati a intervenire dopo una richiesta di aiuto al numero unico di emergenza all'arrivo i poliziotti si trovano davanti ad una scena che sebbene serena all'apparenza nasconde una storia di solitudine e anche fragilità ad aprire la porta è una signora di 90 anni dal sorriso gentile ma con gli occhi che rivelano un turbamento racconta di essere stata picchiata durante la notte ma non è in grado di fornire ulteriori dettagli gli agenti con la loro esperienza e sensibilità notano immediatamente che l'anziana signora vive sola in quell'appartamento contattata la figlia questa conferma che la madre nonostante le condizioni di salute compromesse abita da sola ed è seguita da personale medico per alcune patologie gli agenti comprendono la delicatezza della situazione intuiscono che la vera natura del grido d'aiuto della signora non è legata a una minaccia fisica ma piuttosto a un profondo senso di solitudine la notte ha amplificato le paure e le insicurezze dell'anziana che in cerca di conforto ha trovato il coraggio di chiamare la polizia e così in quel piccolo appartamento si realizza un momento di umanità gli agenti abbandonando per un attimo i rigidi protocolli si siedono accanto a lei le parlano con dolcezza le regalano sorrisi e qualche parola di conforto la loro presenza il loro calore umano trasformano una notte di paura in un momento di ritrovata serenità per l'anziana signora esserci sempre afferma il questore di Ancona Cesare Capocasa è la nostra missione una notte in cui i poliziotti non sono stati solo agenti ma uomini e donne che con un semplice gesto di gentilezza hanno ricordato a tutti l'importanza dell'empatia e del sostegno reciproco torna alla carovana della prevenzione lo fa con due date particolari ad Arquata del Tronto e ad Ascoli Piceno per prevenire il carcinoma mammario una edizione straordinaria della carovana della prevenzione organizzata dallo IOM di Ascoli Piceno farà tappa in due location particolarmente significative la prima avrà luogo il prossimo 8 giugno ad Arquata del Tronto area ancora profondamente segnata dal terremoto del 2016 grazie al fondamentale supporto della Fine Plast e alla collaborazione con il mondo Asterix si è inteso garantire la prevenzione del carcinoma mammario in un territorio che soffre la mancanza di strutture adeguate la seconda data quella del 9 giugno si svolgerà presso la sede della Fine Plast del Rivolta alle donne delle aziende che partecipano ai progetti di mondo Asterix un passo importante per sensibilizzare le imprese del Piceno sull'importanza della salute dei loro dipendenti un'iniziativa concentrata sulla prevenzione per le donne e noi ci siamo perché è importantissima la prevenzione in generale soprattutto su questo argomento che riguardano i donne a cui noi prestiamo molta attenzione lo IOM di Ascoli Piceno è da sempre in prima linea nella lotta contro il cancro al seno l'ultimo rapporto IOM indica che nel 2023 sono stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di tumore al seno il tumore più frequente tra le donne tutta mia è anche il tumore con la più alta percentuale di sopravvivenza a 5 anni grazie alla prevenzione che gioca un ruolo cruciale nella riduzione della mortalità intanto è una patologia quella del tumore al seno che mi interessa perché io anche alla mia età ho avuto anche un'altra recidiva per cui sono convinta che bisogna fare prevenzione la prevenzione ci salva la vita è una grande festa diciamo per noi che ci dedichiamo non solo all'assistenza dei malati oncologici ma anche abbiamo creato la breast unit dove le donne vengono seguite e noi siamo da 5 anni proprio insieme all'asle vecchia diciamo abbiamo creato questo supporto e con la presenza di una segreteria nostra si consolano le mamme o le figlie che telefonano per conto loro e per cui è una cosa che ci teniamo molto l'iniziativa che rientra tra le proposte che Mondo Asterix riserva agli adulti prevede l'utilizzo di due unità mobili per le effettuazioni di mammografie gratuite alle donne non comprese nel programma di screening della sanità pubbliche ed ecografie mammarie per donne fino ai 40 anni quest'anno c'è nata questa sinergia con lo IOM e con le aziende del Mondo Asterix e in principal modo con la Fineplast che ha voluto sostenere questo screening che faremo ad Arquata rivolto a 50 donne del territorio Arquatano e ad Ascol rivolto a tutte le donne del mondo Asterix e delle aziende del mondo Asterix continuiamo a diffondere questi aspetti sociali che sono importanti in quanto crediamo che i bambini saranno gli adulti del futuro e poi mentre i genitori devono fare un'attività di prevenzione primaria importante è tutto per il TG Marche ci fermiamo solo per una breve pausa e poi le notizie sportive grazie